Questa è Tequila, è un similpazzolo tedesco di 4 anni, si trova qui al rifugio Il Baudi Altuniano, è un cane molto bello che necessita magari di una persona che sia un po' conoscitore della razza piuttosto che appassionato, è un cane che ha seguito un percorso di educazione molto importante, noi speriamo che esistano delle persone che gli possano dare la possibilità di vivere in famiglia perché lui ormai è pronto, diciamo che è in note, chi l'ha? Bravo, molto bene, e quindi noi speriamo appunto che possiate venire a conoscerlo e credere in lui e credere in questi suoi miglioramenti che ha fatto nel periodo qua da noi Si trova al Baudi alpignano e potete venire a conoscerlo nel pomeriggio, magari fare una passeggiata con lui, cercare di capire se il cane è adatto a voi e poi noi naturalmente saremo qua per aiutarvi, per farlo conoscere e darvi la possibilità appunto di adottarlo Questo cagnolotto qua è abbastanza giovane, giusto? Si, ha 4 anni e si trova da noi già da alcuni mesi, per questo siamo riusciti a lavorare con lui su diverse cose e diciamo che questo sarebbe il momento proprio adatto per trovare una casa e poter lavorare con delle persone che sappiano gestirlo Finite a conoscere Tequila allora, vi aspetta il Baudi alpignano!